Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, torniamo nella sopravvivenza con un blocco che ormai non ha niente di un blocco Questa cosa la dico sempre, Marcia ormai ha fatto 4600 blocchi e siamo passati infatti alla nuova versione Ma che cos'è la nuova versione? Ma guarda, è tipo una roba tutta bianca che dà quarzo, dà terracotta, dà un po' di redson, un po' di minerali e un po' di diamanti Infatti Fede, guarda, io lo so, ho fatto un po' off camera, ci sono un po' di cesto Infatti, la prima cosa che mi sono domandata è perché ci sono tutte queste casse, porca miseria Allora, signori, io non ci credo, voglio mettermi a piangere Io ho già il mio obiettivo di oggi Quale? Devo creare la villa di Steph Dai, Steph Allora Cioè, ma abbiamo, Marci che lavora, io che sistemo, tu che fai fesserie in giro E Marco? E Marco, non lo so Marco fa un po' di tutto Marco è una meme in questa serie, non fa niente No, 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 ma, no, no, ragazzi non avete capito, io oggi non parlo Ah, neanche parla Va bene Vuole parlare, ok It's the new level È spuntato un gattino, ragazzi Ok, ma se io quindi parlassi di un libro che si chiama Rinascita 15 ore 10 su Amazon Non lo fai? Non fai la televenta, Marco? Non parte? No, non ci credo Ah, ecco 99 per un po' 9, 9, 9 2.999 lire Siamo tornati indietro Ah, ora capisco, sì, ha senso, ha senso Era una bella televendita perché c'era anche il fattore sorpresa, quindi mi è piaciuta Nessuno se l'aspettava Sì, 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 sì Ma sapete che mi mette ansia sta cosa che sto scrivendo in chat? Anche me un pochino, eh Oh, nuovo livello, Steph, guarda quanto ho scavato Digià Ti è, mi dispiace, ormai sono sempre sul terzo Povero, c'ha 4800 blocchi Venga, voglio sapere a quale andiamo poi Siamo al 10 di 11 Ma tieni di conto che un minuto e mezzo dobbiamo passare ad aspettare questo coso di Bedrock Ah, esatto Beh, tanto rispetto a quanto tempo rimani a picconare Scusate quanto è l'albo di figurine 2.99 2.99 Eh, ragazzi, a che numero di fasi siamo? Quello volevo chiedere Allora Non sono dimenticata Andiamo a vedere Tipo la 8 Scusa, ma non ce lo scrivi appena ci dà il nuovo? Sì Non lo so, non mi ricordo Il problema è che mancano 50 secondi Con 50 secondi possiamo raccontare la trama del nuovo libro, Feria Cosa ne pensi? Vai Allora, un bellissimo romanzo Per fanciulli Per adolescenti Dove ci sono viaggi nel tempo Cose incredibili Posso spoilerare la location, Feria? No, è brutto No, vero Anzi, no, Steph È già spoilerata Nella trama suono Mi sa che è spoilerata alla grande È spoilerata alla grande Allora lo dico Zombie Combinati all'era dei pirati Quindi pensate i pirati che prendono a cannonate gli zombie I pirazombi Una roba geniale E i pirati sopravvivono perché vanno in giro con le barche E quindi stanno lontani dagli zombie Ma stai dicendo sopra roba, su Con i protagonisti che sopravviveranno la Allora Ok, comunque ragazzi Siamo a 9 e 10 Quindi ne mancano soltanto due Vuol dire che mi devo muovere a completare la mia villa No, ne manca una Ma tu sei sprecato tutto il quarzo della famiglia Ne manca una, Steph Quando raggiungi la 10 è finito Per fare la villa Scusa, non è così Ma io posso andare avanti a minare O volete che aspetto un pochettino? No, no, mina Ragazzi No, no, ragazzi Non avete capito Guardate, Steph E che succede? Scusami Ma scusami Sto quarzo qui è super raro Non ne avremo mai più E tu lo stai sprecando in questo modo Ma io non capisco di cosa parli Steph Stai dicendo Oggi ragazzi non ci stiamo capendo Cioè c'è un problema di Vociferare incredibile Io non sto capendo che state a fare Steph, che stai a fare? Io sto facendo la casa di Steph Dopo che hai fatto l'isola di Steph Esatto Era la spiaggia di Steph Dato che poi è arrivato il gas che ha distrutto tutto Ho deciso di trasformarla nella casa di Steph Bravo, bravo A me non piace Villa super lusso Vado a lavorare un attimo in privato, ragazzi A dopo, scusate Vai, Mark Vai, vai Forse dovremmo andare anche a dormire Grazie, Fere Ma non abbiamo i letti, Steph Ah In questo senso Chi ce li hai letti, scusami? Eccolo qua che se ne è accorto No, non ci l'abbiamo mica Ragazzi, guarda Non lo smettete Ragazzi, se mi tenete fermo Io questa volta lo distruggo Mi comportate da persone adulte? C'è un cavallo scheletro Sai quanti ne ho presi? Quanti? Aspetta Ecco qua No, quanto è stato? Mark, sai quanti auguri ho in questo momento? Non ci credo Te lo giuro Anche io Vedi che in realtà siete i migliori amici Fere, c'è un zombie pollo dietro di te Eh, pure il zombie piccolino Fere, sta piccando gli asinelli Guarda che brutta Ma che devo fare? Non riesco a prendere sto zombie Fere è maltrato agli animali Ma non è vero, Steph Non dire fesserie Guarda che è un giardo schifoso No, è brutta questa cosa È molto brutta Sì, sì Cioè fa tutta la morale Io l'ho visto Io l'ho visto Ragazzi, perché c'è un asinello dentro il recinto degli orsicolari? Ragazzi, ragazzi, vi prego Fermatevi tutti Cos'è successo? Guardate la villa di Stefo cosa è diventata Bello Arrivo io Io non ho neanche una spada Aspetta, ma io farei spodere un creeper, scusate No, campione, dai, lasciami la villa Ma stanno volando pure cose molto brutte Io forse vado a craftarmi una spada Scusate Me ne vado Aia Aia Pesante Ragazzi, ma che disastro è sta serie? Ma secondo me lo finiamo oggi, raga E comunque le... Ma sai perché? Perché tra il lotto e il no C'è un phantom Aiuto C'è tanto Ci sono anche i vex, raga Cioè, è un po' complicato Comunque anche secondo me la finiamo oggi, Marci È quello che tentavo di dire prima Ma nessuno mi stava ascoltando Ah, io non ho sentito È colpa di Steph che ti parla sopra Perché se... Esatto, a parte quello Però secondo me se arriviamo alla 10 Abbiamo finito Perché Steph ha detto Mancano due fasi Non è vero, ci manca l'ultima Non erano degli undici? No, sono dieci in tutto Sicura? Secondo me sì Beh, scusa Non ha senso fare undici fasi Allora, sai cos'è la cosa, Steffo? È che praticamente dalla 8 alla 9 Ci ha messo pochi Tipo 500 blocchi Cosa che ti ricordi? Nell'episodio scorso era 1500 Una roba del genere Sì, infatti mi ricordo Mi ha rubato la spada Me ne craft un'altra Aspettate Ma Martin sta scavando qua Raga, la casa è invasa totalmente dai lama Ok Porca miseria Ma più che altro qua avremmo bisogno di fare un po' di torce Secondo me Perché abbiamo qualche problema con i mob Ma è giusto qualche problema Nulla di grave Mi sembra Faccio così La villa è tua Quindi devi vestire tu sulle torce Infatti le ho fatte Hai ragione Bravo, Steffo Io sono d'accordo con il tuo ragionamento Grazie Villa di Steffo 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 Ti ho fatto le torce Ma le ho già cartate Ah, ok Io le metto qua Vabbè, però fatene tante Perché è molto buia quest'isola Soprattutto la zona di Steff Come abbiamo visto Non va bene che sia così buia No, raga Adesso ho anche 23 torce E 32 blocchi Raga, c'è qualcosa che non va No, no, no Oggi succede qualcosa di brutto Io vi avviso Perché? Eh, fare troppi i 23-17 Ah Esploda il mondo Penso che se oggi non acquisti il libro Ok Non rinasci più Esatto È una brutta cosa, Steffo Sì, è molto pericoloso Eh, direi Non c'è più il respawn, quindi Non c'è più il respawn No, raga Ma la Keep Inventory? Neanche, rinasce e ti toglie tutto Ragazzi, è un video Non è un video televendita Si può dire una volta Una volta va bene Due, tre, quattro Io non capisco qual è la difenza Tra un video e una televendita Ormai no, Steffo Perché stai facendo troppe Sono abbastanza Ed è solo l'inizio, purtroppo Inizio a dire io, guarda Sì, sì No, aspetta Io, Ferre, ormai mi sveglio la mattina E devo fare delle vendite su Instagram Ma è un altare È colpa di Steffo Ci devi uccidere le persone qui dentro È un altare Cioè, che cos'è? Sembra un altare satanico, ragazzi No, Ferre, non dovevi dire È ormai l'ho detto Fatelo smettere È lui che fa le cose brutte, inquietanti Non solo io Ma non le ho fatte io Io sono d'accordo È stato Marci, Ferre Io che sto scavando Vabbè, tu però l'hai lasciato così Guarda, sei veramente Sei veramente Guarda, eh Fere, lascia perdere Tanto fa niente Senti quello Ormai Io non rispondo Ormai sei arreso per la vita Raga, abbiamo finito con queste fasi Io non ho più voglia di sistemare cassa Infatti oggi sono in sciopera E non sto facendo niente Le fa Marco Le fa Marco Sono d'accordo Sono occupato Sono stanca Non ho fatto altro in tutti questi episodi Quindi oggi dico che sono stanca Io sono d'accordo con Ferre Comunque, Ferre, se vuoi Qua ci sono altre due chest che ho aggiunto Oltre alle altre due che ho messo questa prima Grazie Grazie per l'informazione Bello questo cavallo Ok Bello Venite a vederlo Eh, sono occupato, Ferre Scusami No, non uccidetelo Questo però sì Lo dobbiamo uccidere, ok? Oh, ok Venite qua Non arriverà più nessun mob Ormai è casa mia Allora, fatemi fare un calcolo Allora Calcolatrice alla mano Vai 5206 Per 452 393 17 7 Più 31 Fa 5636 Quindi mancano circa 300 blocchi Se vogliamo arrivare a 6000 Più o meno Potrebbe avere senso Potrebbe, sì Sì, sì, sì Eh, ragazzi, lo so, lo so No, non è la matematica Mi spiace Praticamente avevo esattamente dei blocchi Con cui ho fatto perfettamente il tetto Cioè non è avanzato neanche un pezzetto Marco, che combini lì dietro anche tu? Sono veramente emozionato No, raga, ho ucciso un asino Scusatemi Era Marco Ok, accettiamo le tue scuse Qua cosa è successo? Ecco Raga Ma allora Oggi perché non state parlando? Io dico Allora, io sto parlando Cioè l'unica che sta tagliarlando è Marci Voi due? No, Stef Non mi dico, Stef Marco ha deciso di scrivere la metà delle sue parole in chat Stef è impegnato a fare costruzioni che non sono describili Sto usato il bambù, ragazzi Devo chiedere una cosa Guardate Marco gentilmente Guardate Marco E quando dico a Marco di saltare, lui deve saltare Ok Va bene? Ok Sei pronto, Marco? E tipo Simon Seis Ok Vai Marci Seis Marco devi saltare quando te lo dico, ok? Cosa vuole fare? Non lo so Non lo so, tu salta Salta Non posso saltare Ma la smetti di darmi il ciclo da 6 Salta È impossibile, mi hai messo già un busto infinito Non posso saltare Ma non puoi Ma in che senso? Dai Marci ha sbagliato il comando No, no, il comando è giusto Marci ha fatto un fail No, il comando era giusto E che penso che se avesse saltato sarebbe scherzo Eccolo È saltato Eccolo, eccolo, eccolo Perché è vivo, è vivo Sono fortissimo Marci ha filato due volte Sì, doppio fail Marci è in imbarazzo Si colpisce da solo Ah, io ho deciso che adesso non scaverò più, allora Ok La portata è eliminato Che c'è? No, non posso io Io quanto ho? Tipo sette blocchi, raga Appunto Da qui a che arrivo a 6.000 Sarà la parola di lavorare, Fere Marci Io ho sistemato le casse E poi mica conteggia i tuoi blocchi Conteggia i blocchi totali No, secondo me li conteggono Ma cosa? Ma Fere Ma allora perché ognuno ha il suo conteggio, scusami Per far capire quanto è campioncino Quanto fai schifo se non li fai? Esatto Tu sei la peggia della serie Ma è già uscito quel famoso video dello scavaggio? Del mining? No, hai spoilerato un video che non è uscito Esatto Dai Marci Vabbè È molto grave Gli spoiler piacciono Quindi secondo me sono contenti Esatto Provate a capire cosa è successo e basta Cosa abbiamo fatto Niente, siamo andati in spiaggia Nello scavaggio Nel mining Cosa abbiamo fatto? Chissà cosa è successo raga Non lo so Dai che abbiamo quasi finito qua raga Non ci faccio più Non cambiare discorso Hai fatto un casino Basta Basta Adesso non parlo più nemmeno io Perfetto Chissà se sarà davvero tipo a simila blocchi Non lo so Ma guarda Non lo so No, adesso scrive anche l'altro No, dai ragazzi Come quando avevamo fatto il video Però è un po' copione Bisogna dirlo Sì, sì Cioè comunque alla fine è qualcosa che non è suo Che ha inventato Marca adesso Basta Cioè secondo me tu potresti fare che tu non senti Invece che non parli E che non sento vuol dire che mi parlo sordo E quindi parli random Non scambiamo le posizioni Dai, sta fatta Allora Siamo a 5400 Ok Mancano 100 blocchi signori Io non ce la faccio più Ok E ci credo Cos'era questo appunto di Stef Eh mi sono sentito un po' da su prima scusami Con l'autotune mi sembrava un po' un Magari potresti fare una canzone Sì, ho pensato di metterlo per il ritornello Io direi i prossimi video con l'autotune Ma non l'abbiamo detto che dobbiamo fare 300.000 mi piace per la canzone nuova Sì l'hai già detto anche io Con l'autotune Non possiamo farli 300.000 lo sai? Perché no? Eh perché dovresti fare una canzone dove fai così tanti like per poi fare un'altra canzone Guarda Stef Stef, la canzone che vi ho ideato l'altro giorno È finito Un milione di like li può fare Raga venite qua Sì però quello non lo sa nessuno Perché penso che sia stato tagliato Non lo so Non l'abbiamo ancora editato il video Vieni Stef Ecco l'altro fail dell'altro No, stanno a vedere quanti likes ha Stef 2317 205.000 C'è niente quella ci è arrivata Eh ma ci credo Facceva schifo La canzone dei campioncini Ci mancherebbe altro Disintegra tutto Cioè la canzone era anche carina Il video è il problema Ovvero noi Sì ma su 5 milioni Già i 200.000 like Se siete veramente Dimmi Non è che adesso vanno a mettere like No dai No 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 Ma andiamo a comprare rinascita Che è più importante Esatto Ragazzi 50 secondi Ma perché Perché non fare tutti e due Perché la regola di chi fa le televendite È che non deve mai esagerare C'è un limite di televendita Sopportabile al giorno E tu l'hai superato ampiamente Sì Sì ecco Quindi Perché Non ridere Basta Ok Sei ridicolo 30 secondi Io spero sia l'ultima Anche perché ragazzi Se non è l'ultima Facciamo che lo è No E ciao a tutti No basta Che brutta cosa E dai quante fasi dobbiamo fare Sono tantissime Ma secondo me questo upgrading L'ha fatto per far arrivare i video a 10 minuti Però non si è reso conto Che poi durano 20 minuti i video Eh infatti Anche quello è il problema 10 Ci siamo No Pronti Perché l'avete fatto fuori Eh io c'ho il piccone in mano Non sono stato io di certo No io ero ferma Ero qui sopra Che volete da me Vediamo Ok sì La fine però Eh ma devi farlo la fine No Eh sì No È la fine C'è scritto che è la fine Vai scendere il dragon secondo voi Eh sì No raga no Eh sì No ragazzi è finita Dai basta Ragazzi fermiamo così per questo video Ah ok Salto come altri video Iscrivetevi al canale 2 e 99 100 mila mi piace Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao